nel nome del padre del figlio dello spirito santo ma buongiorno carissimi amici questa mattina vorrei ricordare nella nostra preghiera la nostra cara gina che compie gli anni e che i suoi familiari ecco mi hanno chiesto di ricordarla ecco lei che nel cielo ecco è comunque presente in maniera molto forte e viva nei cuori ecco allora diciamo questo padre nostro con questa intenzione anche con tutte le vostre intenzioni padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ieri abbiamo ascoltato il vangelo dei discepoli di emmaus e alla fine dopo aver riconosciuto gesù allo spezzare del pane tornano dagli undici benché fosse già sera inoltrata non hanno nessun problema e sentono proprio questa gioia questo bisogno di dover condividere e arrivano allora dove scoprono che simone aveva visto il maestro risorto ascoltiamo allora dalla voce di carlo dal vangelo secondo luca in quel tempo i due discepoli che erano ritornati da emmaus narravano ciò che era caduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane mentre essi parlavano di queste cose gesù in persona stette in mezzo a loro e disse pace a voi sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma ma egli disse loro perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore guardate le mie mani e i miei piedi sono proprio io toccatemi e guardate un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io dicendo questo mostro loro le mani e i piedi ma poiché per la gioia non credevano ancora che erano piene di stupore disse avete qui qualcosa da mangiare gli offrirono una pozione di pesce a rusti egli lo prese e lo mangiò davanti al poi disse sono queste le parole che io vi dissi quando era ancora con voi bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di mosè nei profeti e nei salmi allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro così sta scritto il cristo patirà e risorgerà dei morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione il perdono dei peccati cominciando da gerusalemme di questo voi siete testimoni parola del signore lode a te o cristo ecco che i due discepoli arrivati dagli undici raccontano tutto quello che avevano vissuto e cioè che gesù si era affiancato lungo la loro strada li aveva accompagnati dialogando con loro anche senza che loro si rendessero conto riconoscessero che era gesù e poi l'avevano riconosciuto dopo averlo invitato in casa quando stava spezzando il pane e lì era scomparso ecco mentre loro parlavano di queste cose arriva gesù in persona stette in mezzo a loro e disse pace a voi il dono del risorto il dono che gesù con tutto il suo operare soffrire amare adonato è il dono della pace pace a voi probabilmente non si rendono ancora conto perché è un dono così grande che va accolto aprendo sempre di più il cuore però è fondamentale rendersi conto che tutto ciò che gesù ha fatto è stato per conquistare per noi ciò che avevamo perduto il dono della pace pace in se stesso di ogni uomo in se stesso di ogni uomo con i fratelli di ogni uomo con Dio pace a voi ecco dovremmo fermarci proprio tanto su questo grande dono che il risorto ci offre ecco che qual è la condizione dei degli apostoli sconvolti e pieni di paura chiaramente a livello umano è comprensibile questo e credevano di vedere un fantasma ed ecco allora che gesù con grande amore amore con grande potremmo dire tenerezza verso i suoi amici gli aiuta gli aiuta proprio con tanti piccoli passaggi a riconoscere che è veramente lui che è proprio lui in tutto e per tutto e allora chiede perché siete turbati perché sorgono dubbi nel vostro cuore guardate le mie mani e i miei piedi sono proprio io e qui avranno visto veramente quelle ferite quei fori e poi aggiunge toccatemi e guardate e qui in luca non c'è l'episodio di santo maso ma in qualche modo viene riassunto qui dalla possibilità ai suoi amici proprio di toccare di sentire proprio con le mani la sua carne la carne di gesù risorto di vedere certamente è stato qualcosa di meraviglioso e poi gesù insiste un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho è bellissimo anche questa cosa che gesù ci insegna che il corpo risorto non è un fantasma ha veramente la carne le ossa anche se sappiamo dal vangelo di giovanni ha un corpo che non ha le limitazioni che abbiamo noi può passare attraverso i muri ecco non hai bisogni però è anche corpo e anche possibilità corporea e questo è meraviglioso perché è proprio un recuperare questa dimensione corporea che dio ha creato e che rimane degna di dio e quindi è giusto che venga risorta anche questa e comunque gesù allora mostra le mani e i piedi e che cosa subentra adesso al posto della paura ecco una immensa gioia ecco la gioia che effetto ha è quasi quella sensazione di dire è troppo bello per essere vero infatti poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore allora gesù disse ecco allora un ulteriore elemento di di conferma di rassicurazione di riconoscimento avete qui qualche cosa da mangiare gli offrirono una porzione di pesce arrostito egli lo prese e lo mangiò davanti a loro che bello vedere gesù ecco lui con il suo corpo non ha bisogno certamente di mangiare però può anche fare quello e lo fa per amore per il bisogno di condividere con loro questa grande gioia risvegliando il ricordo di tanti momenti in cui aveva mangiato insieme ai suoi amici è proprio bello dedicare del tempo per farsi riconoscere è in una dimensione nuova però è lo stesso è di più molto di più ma è lo stesso e allora l'ultimo passaggio che fa gesù è quello con le scritture che cosa ci insegna gesù che tutto ciò che è detto scritto nella sacra scrittura in quello che noi chiamiamo l'antico testamento tutto questo ha preso vita ha preso realtà è arrivato a compiersi in gesù ecco se vogliamo vedere il significato profondo di ciò che era scritto lo scopriamo in quello che gesù ha vissuto e forse tutto quello che gesù ha vissuto potrebbe essere proprio racchiuso anche nel vangelo di oggi un dio che si china sulle nostre difficoltà sulle nostre paure e ci accompagna ci aiuta ci incoraggia ci conforta ci rassicura ecco un dio che non non ci butta via perché siamo così incapaci fragili in adatti ma ci raccoglie con tanto amore e ci rendi ci rende capace di amicizia familiarità con lui ecco questo messaggio di vicinanza di pazienza di raccogliere di amare di accompagnare è veramente l'unico modo che può aiutare per quella conversione di cui parla gesù alla fine quando dice che nel mio nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati cioè quale conversione è possibile se non quella che parte dal sperimentare questo dio che si avvicina che ti raccoglie che con pazienza si prende cura di te come dicevamo anche ieri ti lava ti profuma ti rimette in piedi ti solleva ecco il perdono ma questo è il messaggio ecco come dicevo anche ieri abbiamo bisogno di riceverlo prima noi e poi questo stesso amore quando sarà tale da traboccare potremo donarlo anche a questa umanità che ci circonda che ha tanto bisogno di amore e di misericordia di questo voi siete testimoni ecco non perché avete sentito delle belle parole ma perché avete provato sulla vostra carne un dio vicino un dio che si prende cura e con questa cura ha il potere di trasformarci vieni gesù riempimi di te ti dono il mio cuore riempilo del tuo amore donami tutto te e con te donami le tue virtù amami gesù fa che io ti ami con il tuo amore grazie gesù grazie che io sono qui sono qui perché tu sei buono soltanto perché tu sei buono vieni da me che io vengo da te e siamo una cosa sola amore misericordia e misericordia e miseria una cosa sola il mondo ha bisogno di te amore misericordia fa che io ti porti nel mondo intero il signore sia con voi per quel tuo spirito per intercessione della mamma celeste vi benedica dio onnipotente padre figlio e spirito santo amen la parola che mi è piaciuto tanto e che vorrei condividere con voi e la parola gioia ecco la gioia è contagiosa lo sappiamo no e come che è successo ai due discepoli di emus che quando che gesù ieri ha aperto ha spezzato il pane e gesù e in quel momento è scomparso loro prima avevano paura sono usciti hanno rifatto gli 11 chilometri per condividere con i loro amici quindi quando che secondo me la gioia appunto è quella che 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 secondo me converte una cosa che è talmente contagiosa che converte sia me stesso che che le persone che mi stanno vicino ecco quello che possiamo chiedere è usare questa parola della gioia è una chiave di trasformazione secondo me buona giornata a tutti anche da parte mia a me invece viene in mente questa mattina ascoltando la diretta che mentre noi assorbiamo quello che che questo vangelo ascoltiamo la parola entriamo proprio nella entriamo proprio nel mondo che vorrebbe regalarci gesù ogni giorno ed è un mondo fatto che anche se ci sono difficoltà lui può aiutarci però proviamo a fare un esperimento appena finita questa diretta accendiamo la televisione vediamo che il mondo ci bombarda di distruzione di disastri non c'è una cosa che va bene e allora le persone sono impaurite tutti se ascoltiamo quel mondo continuamente diventiamo vittime di tutta questa paura che c'è in giro e allora come facciamo tanti amici mi dicono eh fate bei discorsi la mattina però dopo la realtà è un'altra allora non si tratta di due realtà quando ai tempi di gesù andava peggio molto molto peggio di adesso quando c'erano le guerre nei nostri territori andava cento migliaia di volte peggio di adesso però cosa hanno fatto le i nostri padri i nostri nonni in quel periodo pur avendo avuto una distruzione hanno incrociato la croce il vangelo il rosario hanno pregato si sono tirati sulle maniche non hanno ascoltato solo il mondo ma hanno trasformato tutta quella distruzione case distrutte malattie non c'erano medicine non c'era nulla e ci hanno portato il mondo di adesso dove abbiamo una casa dove abbiamo un lavoro quindi non si tratta di dire non guardo il mondo si tratta nel mondo con i suoi problemi guardare gesù buona giornata grazie e buona giornata a tutti carissimi a presto grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti